Quattro persone affiliate le famiglie mafiose di Portempedocle e Realmonte sono state arrestate stamattina dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale d'Egrigento agli ordini del Maggiore Salvatore Leotta. A seguito di una lunga attività investigativa che ha avuto inizio nel luglio del 2007 e durata circa due anni, ha consentito di fare luce su una serie di estorsioni ai danni di imprenditori della zona. In particolare, intimidendo le vittime, ponevano in essere un vero e proprio collocamento al lavoro di soggetti vicini all'organizzazione mafiosa, pilotando le assunzioni nelle maggiori aziende del territorio oppure facendosi praticare ingenti sconti nella merce prelevata. Ad emettere la misura cautelare il GIP del Tribunale di Palermo, dottor Sestito, sul richieste della DDA di Palermo, dottor Teresi e dottoressa Fulantelli. A finire in manette, nell'operazione denominata DNA, Filippo Focoso, nato in Germania nel dicembre del 1970, residente a Real Monte. Domenico Seddio, inteso Nico, 38enne, nato da Grigento ma residente a Porta Empedocle. Francesco Luparello, nato da Grigento nell'agosto del 1974 e residente a Real Monte. Ed infine Salvatore Romeo, empedoclino 52enne. Tutti sono accusati di aver avuto legami con Gerlandino Messina, Giosef Focoso, Luigi Putrone e Maurizio Digati e di aver partecipato ad un sodalizio criminoso organicamente inserito nell'associazione Cosa Nostra. I singoli associati hanno disponibilità di armi per il conseguimento delle finalità dell'associazione stessa e si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà da esso derivante per commettere delitti quali omicidi, traffico di sostanze stupefacenti, incendi, danneggiamenti, estorsioni e furti nonché per acquisire il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici e per realizzare vantaggi e profitti ingiusti. E' stato inoltre evidenziato il ruolo di capo famiglia ricoperto da Domenico Seddio che come tale veniva costantemente informato ed interessato di ogni problematica che veniva a materializzarsi all'interno dell'organizzazione. Ancora una volta le intercettazioni sono state importanti al fine di scovare l'organizzazione mafiosa.